Lui si veste completamente nelle emozioni. E questa è una delle qualità che penso che il mondo intero ama Tchaikovsky per questo. E Evgeny Onyegin ha grande emozioni dall'inizio alla fine. Penso che Onyegin è un giovane uomo molto arrogante. Può credere di essere sempre più alto di tutti gli altri. Infelice, anche se ancora giovane, in ricerca di se stesso. Lui se stesso si ingabbia con le sue emozioni per far vedere quello che pensa. Però poi si capisce verso la fine veramente che è un uomo perché è proprio ingabbiato di se stesso. La tragedia è di due anime che a un dato momento sono innamorati, ma non allo stesso momento. che è un uomo. È un uomo. È un uomo. se viene paragonato ai giorni d'oggi. è un uomo. 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 È un uomo.